Un bel appuntamento con il Teatro a Salerno e la immancabile passeggiata per le vie della città illuminate dalle magiche luci d'artista per gli studenti dell'Istituto Sacco di Sant'Arsegno che ieri sono stati al Teatro Augusteo. I ragazzi delle classi quarte e quinte dell'Istituto hanno assistito alla rappresentazione teatrale in lingua inglese Midsummer Night's Dream, tratta dalla famosa opera scritta da William Shakespeare, Caratterizzata dalla fusione tra mondo mortale e fiabesco, un insieme di intrighi e di sortileggi romantici la commedia inizia con il racconto delle nozze ateniesi di Teseo e Ippolita dell'amore di Ermia per Lissandro contrastato dal padre che vorrebbe darla in sposa a Demetrio di quello di Elena che ama Demetrio ma non è ricambiata. I giovani cercano di fuggire al loro destino e nel bosco trovano rifugio in una dimensione dominata dal caos dove agli spiriti che lo abitano è dato il potere di cambiare a proprio piacimento l'ordine delle cose così il malizioso folletto Puck con i suoi incantesimi può far innamorare la sua regina Titania di un rozzo artigiano a cui è spuntata per magia una testa d'asino e che vaga coi suoi compagni per allestire una commedia da presentare a corte ma può anche fare in modo che ciascuno ami chi vuole e ne sia ricambiato ed è proprio questo il significato della commedia shakespeariana sottolineano dalla scuola l'innamoramento nasconde le qualità fisiche e morali della persona amata per poi rivelarle una volta svanito l'incanto il caos può essere artefice del nostro destino e l'amore rappresentato come un sentimento che non possiamo governare perché alla stessa densità del mondo onirico e della magia dopo la rappresentazione teatrale i ragazzi con i docenti e accompagnatori hanno avuto modo di fare una passeggiata lungo le vie di Salerno ammirando le luci d'artista installate tra gli edifici storici e le piazze della città continuando così ad immergersi in una dimensione onirica e magica